Ciao! Questo piccolo video soltanto per ringraziare tutti coloro che seguono il mio canale YouTube. Il 25 dicembre del 2023 il mio canale ha raggiunto i 10.000 iscritti. Questo vuol dire che ci sono almeno 10.000 persone che hanno trovato in qualche modo interessante, utili i contenuti che io ho pubblicato sul mio canale e hanno deciso quindi di iscriversi e di seguire appunto le cose che io faccio. E questo per me è sicuramente una cosa molto bella. D'altra parte mi rendo conto comunque che 10.000 iscritti sono assolutamente nulla, una goccia nel mare, nella logica insomma dei grandi numeri di YouTube o di altri social simili dove comunque si parla di milioni di iscrizioni insomma per quelli che sono diciamo dei comunicatori di successo. Io sono d'altra parte un piccolo bassista che parla di basso elettrico attraverso questo canale. in italiano tra l'altro, cosa che inevitabilmente limita anche una parte sicuramente del pubblico potenziale. Ma d'altra parte io non avevo appunto nessuna ambizione di diventare un influencer, un YouTuber di successo o cose del genere. Vi basti pensare che il primo video su questo canale è stato pubblicato nel giugno del 2009 quando appunto ho aperto il canale e ho pubblicato credo uno a giugno, un ottobre, un paio di video che erano semplicemente dei demo clip dei bassi laurus che a quell'epoca mi vedevano appunto come endorser. E poi io nei primi anni ho veramente pubblicato poco, credo che l'anno successivo nel 2010 abbia pubblicato una decina di video e la stessa cosa nel 2011 quindi non era assolutamente nato questo canale con nessun tipo di ambizione del genere. Solo successivamente ho poi cercato di renderlo più interessante visto che c'erano anche molte persone che avevano iniziato comunque a seguire le mie bass cover però ho pensato che poteva essere interessante aggiungere anche altre tipologie di contenuti. Come dicevo nessuna ambizione di essere influencer di alcun che è se non di una cosa cioè di riuscire a trasmettere in qualche modo la passione e l'amore per questo bellissimo strumento. E se sono riuscito a fare questo sicuramente vuol dire che è qualcosa di buono questo canale secondo me lo ha fatto. Ciao!